Sì, io vorrei la pistola però Ah, vabbè, polizia intanto la sua pistola non me la dà Quel maiale lì Boia, quanti colpi che bisogna sparare, che per sto schifo Non dimmi Dio buono Oh, primo colpo, stai scherzando? Prendi perché il culo, cos'è? Una fotocoppia, 1-2-1-2 Ciccina ti ricordi che fa una canza con amore lui 1-2-1-2 Boia, adesso vuoi vedere che sono qua 1-2-1-2, 1-2-1-2 1-2-1-2, 1-2-1-2 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2 Dai, 1-1-2-1-2-1-2 Dio, 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 Dio Cos'è? Ma l'avrò ripristinata 70 volte la corrente io in tutto il gioco E' troppo facile Non penso sia sta roba Ah infatti Oddio 12 proiettili ancora Ma quante volte mi dà 12 proiettili Adesso Tacca sto schifo Dai tacchemolo Corri muovete però Adesso vai di là e c'è qualcuno che rompe le balle Su Allora parti Oh Ah ecco Dio buono Cosa 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 Adesso cade No non cade Oii Dio 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 Cosa devo fare Oh Oh Ma cosa devo fare Teoricamente dovresti andare su Teoricamente Teoricamente io dovrei andare dall'altra parte Non lì, Dio Adesso io non riesco a capire cosa devo Cosa devo fare? Dove devo... Va a fanculo, va Va a fanculo E corri Ma se te vai addosso ai barili Ecco, perfetto 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 Dove sono? Non riesco a capire dove sono Dove sono? E qua, Lec E in piedi Da lì in piedi Oh, dislessia portami via A casa mia Anzi, dislessia portami via Da che la vacca ha detto sia No, 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 no Forse non ci siamo capiti Tu devi andare su Oh Dio Madonna, oh, ma sto qua È un corri e basta Potevano chiamarlo Run Forest Bam Sempre le solite rodi Corrisponda 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 Adesso siamo Da merda Oh, il primo colpo Mi prendi per il culo Quando siamo nella merda funzioni Quando devo andare avanti Non funziona Salta Salta Cos'è? Schifo Medikit Come ho usato Vabbè Quando serve usarlo Non lo usa Quando non lo deve usare Lo usa Sfonda Perfetto Corri Vabbè c'erano i cassonetti dietro poteva saltarci sopra ma niente cos'è sta cosa adesso? cos'è? cos'è? io odio sti punti come in Far Cry che ti fa camminare arrivi vicino alla casa e si sposta alla casa non hanno senso sti punti non hanno senso sti punti vabbè salite così alla random devo saltare sì perché sei con me prima c'è una strada poi sto schifo dio che ansia che fa venire sto gioco ora non è la prima che fai a scroogli non è l'ora non è la scroogli non è l'ora mi sento l'ora mi sento gli mani gli mani non è quella che non è è proprio come una precauzione precauzione lo sai che succede non ti vado non si vado è bene si vado la ragazza la ragazza la ragazza non ti lascia No ma io dopo L'ultima volta che ho trovato un vecchio barbuto Che ci aiutava Nel film REC Penso che dopo si è rivelato Uno stronzo grandissimo Dove è andato? Dove è andato? Cos'è devo fare? Ma vaffanculo va Che cazzo devo fare ogni volta? Mi fa prendere pure paura Madonna oh Almeno avessi visto dove è andato No giù Dio buon sono morto Ma mi prendi per il E quindi Cosa faccio? Perché brilla quella roba a destra? Cosa devo fare? Corre e rispondare Sto scherzando Cosa faccio? 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 Cosa faccio �'s vabbè ma te mi prendi per il culo ma tanto anche ma tipo ma questo è come come si chiama un secondo che guardo com'è che si chiama quel gioco schifoso sto qua è come no aspetta ho sbagliato eccolo qua eh coso fanculo non c'è niente come si chiama tipo il gioco quello lì del gattino tipo super mario ma dio cristo ma sto ste cose cosa stavo a fare ma dio si non so vabbè fanculo va dai dai va la ok adesso funziona fanculo va ah è fatta l'età cade dai su cos'è perché che è uno schifo là davanti datti fuoco ok adesso vabbè vabbè fatality vabbè fanculo vai salta di dio dio de un dio salta su mamma mia oh se volete incazzarvi giocate a sto gioco ma i ratti hanno sempre tua sorella e adesso perfetto già sbagliato perfetto tipo devo lasciarmi ammazzare sì perché o corro o corro mi devo correre esatto cristo gesù bello perfetto bello bellissimo una figata ah non sono morto io lol pensavo fossi morto io ho dovuto che a far tutto capo ah perché prima mi ha fatto accenno di aggrapparmi al corpo sì medikit qua vabbè qua la scala che va troia adesso sicuramente si rompe cosa dio de madonna de dio no ma veramente qua stiamo superando il limite della cioè qua girano le palle altamente cosa devo fare lì scu cosa devo fare corri devo rotolare rotola corri e rotola mamma mia ok allora niente basta ok finito basta mi sono rotto le palle allora questo è finito sta puntata è finita non so quante puntate ho fatto prima noi ci vediamo nella prossima perché qua mi stavo rompendo le palle ok